Benvenuti nella mia cucina! Oggi facciamo il riso allo cantonese, che è un piatto sicuramente orientale, cinese, ma molto facile da fare anche in Italia. Buono, nutriente, che di solito piace a tutta la famiglia. Come prima cosa ho circa 100 grammi di piselli surgelati, li andiamo a far bollire. Un po' di sale. Sei minuti circa, li facciamo bollire e poi li scoliamo. Nel frattempo noi ci occupiamo di tutti gli altri ingredienti. Il riso io l'ho già cotto, ma ne parliamo dopo. Incominciamo dalle uova. Io ho fatto 250 grammi di riso. Farei due o tre uova. Bacchiamo bene bene le uova. Intanto adesso si accendo. Olio di semi. Aspettiamo che sia bella bella calda. Poi mettiamo le nostre uova che gonfieranno e faranno una frittata bella vaporosa. Tanto poi si deve spezzettare tutta, sta frittata, quindi non è che deve essere un capolavoro. Mi piace che sia un po' brossolita perché è da più sapore, no? La tiriamo via. Rimettiamo sul fuoco. Aggiungiamo di nuovo un goccino di olio, ma poco poco. E mettiamo un 150 grammi di cubetti di prosciutto. Allora facciamo bene bene dorare il nostro prosciutto, vedete? Mentre il timer mi dice che è il momento di scolare i piselli. Li scolo e li porto qua, intanto per osola il prosciutto. Tengo un secondo. Ok, quindi aggiungendo sempre un goccino di olio. Riaccendo. È il momento di mettere il riso. Allora, per quello che riguarda il riso, potete usare o il riso da sushi o io uso quel riso che si chiama originario, che è quello che serve per fare i timballi o anche i dolci. Potete anche usare un riso basmato se vi piace. Bisogna sgranarlo un po'. Oh, che confusione. Dicevo che l'ho cotto e poi l'ho raffreddato perché in questa maniera è meno, diciamo, umido. E poi si salta perché poi bisogna saltarlo meglio, quindi è la cosa ideale. Naturalmente se voi lo fate all'ultimo momento non c'è problema, scolatelo e lo mettete direttamente in padella. Io invece faccio così. Dunque, piano piano lo sgraniamo. Sto pensando che posso sgranarlo anche con la forchetta invece di impiastricciarmi tutte le mani. e lo aggiungiamo. Abbiamo detto che sono 250 grammi di riso bollito o fatto al vapore, come preferite voi, e poi raffreddato. Io ci ho messo un goccino d'olio, eh. Deve proprio un po' saltare e caramellizzarsi. Io prendo anche la mia frittata, la taglio. Questo sì che è proprio un piatto colorato. Per dargli aroma e umidità si può aggiungere un filo di vino sul bordo esterno, così. Se avete il vino di riso va bene, se no usate un vino bianco secco qualunque. Finiamo con uno o due poppiai di soia, se vi piace, che vi dà sapore. A me piace molto, quindi io la metto. Un'ultima mescolata. Buon profumo. Facciamo bene bene asciugare il vino, in maniera che non abbia quel sentore di alcol. Lo aggiustiamo di sale se c'è bisogno. Molto saporito. Una volta spento, per guarnire il piatto, metteremo un po' di parte verde del cipollotto. Se non vi piace la soia, perché vedete che l'ha scurito un po', potete lasciarlo bianco. In molti ristoranti cinesi io vedo che me lo servono bianco, però dicevo a me la soia piace molto. Non mi resta che prendere una bella ciotola e completare il piatto. Una bella ciotola. A proposito, ho appena fatto la ricetta del maialino in agrodolce. Quindi, solo due piatti che stanno benissimo insieme. Quindi, io vi lascio il link per vedere il maialino in agrodolce, così poi li potete cucinare insieme. Allora, io faccio una porzione gigante perché... Ho lasciato una gigante. Come se fosse per tutta la famiglia. Allora, dicevamo un po' di cipollotto. Potete mettere anche il cipollotto stesso, ma secondo me è un po' troppo. Et voilà, andate a vedere il maialino in agrodolce. Allora, andate a vedere. Grazie a tutti.